Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini, con Nichiwa, per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasy e la fumble formula, dopo la sigla dei Supernova Collective. Quando senti la terra tremare, o un battito come di tamburi nel cielo, sai che dovrai affrontare un drago, ma questa volta sono due e hanno un microfono. Allora, io non ho mai provato in prima persona i giochi di fumble. Ma proprio 0-0? No, mai. Mannaggia. Mi sono schivato anche Not The End. Dobbiamo fare un sacco di one shot. Dobbiamo fare un sacco di one shot, non di Not The End, perché non mi ispira. Non so perché, non mi piace. Ti farò ricredere. Mi ricredo sempre, come dicevo l'altro giorno, opinioni veramente decise, di cui mi pento ogni volta che le esprimo. Ma tu invece Giada sei una grande fan. Sì. Soprattutto in Not The End. Sì, anche perché non li ho provati tutti. Cioè di fatto, anzi, forse ho provato solo Not The End. Esatto. Però... Spiritualmente Green Hawks. In generale, sì, mi ritengo una fan del mondo che sta creando Fumble GDR. Tra l'altro, vabbè, se non conoscete, Fumble è un gruppo di giocatori di ruolo che ha iniziato con un podcast e ruota ancora attorno al podcast che ormai fa da dieci anni, un podcast di Actual Play, e poi però ha iniziato anche a pubblicare una serie di giochi, ricevendo tantissimi premi e diventando ormai di fatto principalmente autori di giochi di ruolo. Tutti i giochi che hanno pubblicato hanno... Dinamiche. Sì, dinamiche particolari che a me affascinano molto. Cioè le ritengo estremamente originali, semplici e divertenti. Quindi sono sempre stata molto affascinata da questa rete di giochi di ruolo che stanno creando e proprio io ogni tanto entro nel loro sito, li contemplo e penso chissà che quando riuscirò a giocarli tutti, no? E hanno tra l'altro un manifesto molto esplicito, quindi secondo me vale la pena leggerlo un attimo, almeno nei punti principali, no? Dicono che non esistono giochi perfetti, che non vogliamo fare giochi monolitici, quindi che possano fare tutto e giocare tutto. Vogliono pubblicare sistemi originali, vogliono inventare nuovi mondi, ma non vogliono dirci come usarli. Vogliono esplorare quello che gira intorno al mondo dei giochi di ruolo e da tavolo. Continueranno a produrre contenuti multimediali, ma vogliono creare proprio un modello per la distribuzione e il consumo dei giochi che sia nuovo. E poi vogliono giustamente pagare, dare ciò che è giusto ai loro collaboratori, che non vuol dire soltanto denaro. E già dal manifesto si capisce che sono un gruppo molto attento, con tantissima esperienza. E quindi è interessante, visto per la nostra ricerca di nuovi giochi di ruolo, oltre a Dungeons & Dragons, capire come funziona Fumble e come funzionano i loro giochi. Quello che appunto mi ha sempre affascinato molto è proprio creare sistemi originali. Quello che si percepisce subito dalla lettura veloce dei vari giochi di ruolo che ti presentano è che le meccaniche sono molto integrate con l'idea che c'è dietro al gioco, o comunque l'ambientazione che vogliono sviluppare, che non è tanto un'ambientazione in senso di appunto un nuovo mondo. Ah, è così il mondo che fate. Esatto, ma è proprio un genere praticamente, no? Sì, un sistema in cui potete inserirvi. Esatto. E questa cosa è molto forte. E poi c'è tanto il coraggio di andare oltre al sistema dei dadi classico, che abbiamo trovato per ora in quasi tutti i giochi che vi abbiamo portato. Cioè a parte Dread, tutti i giochi che abbiamo portato su questo podcast o si basano sul Diventi System o su pool di dadi o su... Fa ridere però che abbia nominato Dread, perché penso che Dread sia l'unico gioco che batte Fumble al loro stesso gioco, che è l'unico sistema dove è talmente integrato la meccanica con quello che provi mentre la usi e quello che prova il tuo personaggio mentre dovrebbe fare la prova. Sì, ma infatti vabbè, secondo me Dread è un capolavoro... Dread è una perla. Sì, però comunque Fumble ci va molto vicino e lo fa utilizzando strumenti proprio a livello materiale che rompono un po' lo schema del gioco di ruolo col dado e a me questa cosa fa impazzire, nonostante, come sapete, io sia grande fan del dado 20 e di tutti i dadi, di tutte le forme, di tutti i colori, però loro mi fanno impazzire con questi giochi. E anche questo è strano che tu lo dica perché non sono neanche strumenti collezionabili, cioè esistono i token per Not The End, però potresti usare qualsiasi cosa che abbia due colori. Sì, infatti io tra l'altro i token sono riuscito a comprarli soltanto all'ultima fiera perché online erano esauriti tutti e quindi prima giocavo Not The End con le pedine della dama. Bianca e nere. Sì, ma facciamo un giro dei giochi così capite magari anche voi di cosa stiamo parlando se non li conoscete. Anche perché i più famosi che hanno ricevuto anche premi eccetera eccetera sono probabilmente Not The End, Cotra e Green Ox e adesso vabbè Prism perché comunque se ne parlo ultimamente visto che è uscito da poco, sta uscendo. Beh ormai è bello che è uscito quando uscirà questo episodio. Però appunto facendo un giro sul sito di Fumble ci sono tanti altri giochi che magari hanno avuto meno visibilità, meno successo, ma che sono ugualmente interessanti. Anche di più alcuni secondo me. German Democratic Republic. C.D.R. C.D.R. E già qua c'è proprio lo spirito capito di Fumble che ogni cosa non è lasciata al caso. È il gioco di ruolo adatto se volete fare le spie durante la guerra fredda. È solo quello, ci terrei a dirlo che è solo quello, cioè non potete farci nient'altro con questo sistema. E mostra bene il primo dettaglio dei giochi Fumble, non usare sempre e comunque i dadi. Come diceva Giada. Infatti qui potrete stabilire il successo nelle prove utilizzando le tessere del domino. Sicuramente Fumble ha giochi più originali, però è interessante il fatto che ogni agente potrebbe essere un doppio giochista, infatti ti avvisa il gioco del fatto che molte delle sessioni potrebbero finire con qualcuno che ha fatto il doppio gioco e che tradisce il party e il proprio allineamento viene scelto pescando una tessera del domino inizio partita. Per il resto appunto l'intero sistema di gioco si basa appunto sulle tessere del domino e sul fatto di pescare tessere di domino. E qui è soltanto non giochi a domino, che era un'idea carina per la guerra fredda e per il muro far cadere le tessere del domino in qualche modo, che poi non fa parte del gioco. No, infatti c'è quella più... Niente. Sì, più un reel di YouTube soddisfacente, sì. Però diciamo che non usi le tessere di domino come ti aspetteresti di usarle, però è un modo carino per visualizzare i successi e i vari tipi di successo e fallimento, perché hai due valori su ogni tessere. Sì, è un po' sempre la dinamica dei token alla fine. Cioè al posto di pescare token bianchi o neri peschi delle tessere di domino e ad esempio se hai la tessera che in parte è vuota è un fallimento e così via. Ci sono insomma diversi... Sì, ci sono vari livelli. Però è divertente, è l'unico gioco sullo spionaggio che ho visto che ti dice ah potresti essere un doppio giochista, quindi tu crei con tutti gli altri tuo personaggio, poi estrai la tessera che è segreta e che non riveli, che ti dice no guarda che però sei di un'altra nazion, sei un doppio giochista, no? E quindi giochi un po' anche contro gli altri e la dinamica che tu scegli quando aver successo scegliendo quale tessera del domino giocare ti permette di portare avanti questa cosa. Ah ragazzi ho solo tre tessere, non voglio usare un successo pieno, uso un successo parziale e porti avanti così lo scopo della tua nazione invece che quella dichiarata. Molto figo. Invece Being Human secondo me è quello più poetico che hanno, cioè mi sono venuti un po' i brividivini quando l'ho letto oggi. È vero, anche perché è super narrativo. È simile all'apparenza City of Mist di cui abbiamo parlato nella scorsa stagione perché giocherete degli dèi scesi in terra, ma qui l'obiettivo è imparare ad essere umani. E già qua si capisce qual è la poesia del gioco infatti. Sì, stai lentamente perdendo i tuoi aspetti divini per una serie di motivi che puoi inventarti tu e dovete pian piano imparare come essere empatici, cosa vuol dire essere umani. Sicuramente è il gioco che incarna quasi perfettamente la Fumble Formula. È un manuale scritto direttamente per gli dèi, come se tu fossi il dio che stai giocando. Sì, cioè quindi inizi a giocare già mentre leggi il manuale. Esatto, e non solo, ma il gioco di ruolo è il metodo che il manuale sta proponendo al dio per integrarsi nella società. Quindi tu quando sei al tavolo è un po' questa, diciamo, discrepanza sul fatto che tu sei quello che stai imparando ad essere umano. Ed è un gioco dato dall'uso strumento della discussione di GDR per capire la gente intorno al tavolo cosa reputa che sia filosoficamente pregnante per essere umano. Le meccaniche sono costruite apposta per farvi avere sempre successo, ma il caso è dato da quale delle tue due parti è successo. Se hai più dadi che vanno sopra l'otto, se non mi ricordo male, come risultato ha successo la parte divina. Se hai più dadi sotto all'otto ha successo la parte umana. E cambia come la scena viene risolta a seconda di questo. In molti casi perdi comunque qualcosa ogni volta, quindi ha un po' questo senso di sacrificio. Perché incarna quasi perfettamente la fanball formula? Perché usa i dadi. Una cosa carina del manuale sono le note scritte come se fossero scritte a mano. Da un altro dio, esatto. E poi utilizza fotografie al posto di illustrazioni. Sì, è un po' strano vedere proprio delle foto di persona nel manuale. Esatto. Diciamo che rompe un po' la grafica del resto del manuale, che comunque ha questa carta ingiallita, con delle decorazioni disegnate, eccetera. Anche il font che hanno scelto, comunque molto sobrio, eccetera. Un filtro seppia poteva starci per... E poi invece ci sono queste foto proprio prese, immagino, tipo, non so, da Unsplash. O magari sono loro, non lo sappiamo, però... Può anche darsi che abbiano preso a posta delle persone per fare le foto, però danno proprio l'idea delle foto prese da Unsplash, no? Quando cerchi, non so, donna di 50 anni e ti dà una foto e tu metti quella. E questo mi spezza un po' l'estetica del resto del manuale. Però dall'altro lato ti fa entrare ancora di più nell'idea del... Che stai diventando umano. Esatto, tu stai diventando uno di loro, è inutile che te lo disegniamo, cioè tu sei proprio uno di loro. Sì, è proprio alla fine il contrario di City of Mist. Allora, login, c'era scritto che è un gioco molto difficile e è consigliato proprio di leggere tutto il manuale prima di iniziare a giocare, quindi per il momento lo abbiamo ignorato a livello di meccaniche e probabilmente lo studieremo più avanti per portarlo. In un episodio apposta se riusciamo a provarlo. Però, per dirvi un po', per raccontarvi un po' che tipo di gioco è, è un isekai che è questo genere narrativo in cui una persona si trova catapultata in un altro mondo e deve imparare a vivere in quel mondo, ad ambientarsi in quel mondo. E infatti nel gioco ci sono anche sessioni di addestramento. Ah, fighissimo. E poi battaglie epiche contro invasori, nemici, eccetera, e decisioni difficili che potrebbero anche andare contro gli interessi del gruppo. Un'altra particolarità è che i giocatori interpretano sia il personaggio che si trova catapultato nel mondo di gioco, che il suo avatar, quindi l'avatar che aveva nel mondo di gioco. È fatto per campagne di medio termine, quindi minimo 10 sessioni e più o meno 20 sessioni massimo, però appunto delle meccaniche parleremo in un'altra occasione. Giusto per mettere anche questo, perché ci piaceva il manuale. Sì, diciamo che a me il manuale ispira tantissimo e quindi mi piacerebbe effettivamente capire anche quali sono le meccaniche, perché come genere è carino. Sì. L'isekai mi ispira, no? Tu non l'hai mai visto Sword Art Online? No, non l'ho mai visto, me l'hanno consigliato tantissimo, lo guardavano i miei alunni durante le ore di lezione, quindi ogni tanto qualcosa ho visto. E tra l'altro appunto Fumble ci dice che Sword Art Online è proprio uno dei riferimenti. Ovviamente. Insieme ad altri anime comunque abbastanza recenti, ma anche insieme a, cioè ci fa altri riferimenti molto più antichi, come la Divina Commedia, nel senso che alla fine la Divina Commedia è il misekai. Sono dei geni, è folle quanti dettagli che tu dici, ma come gli è venuto in mente ci siano nei loro manuali. Come La Storia Infinita e Ready Player One, che è un romanzo più recente. A me, cioè, sono tutte storie che effettivamente è un genere che comunque mi prende, perciò lo giocherei volentieri. Cioè i robottoni no, ma gli isekai sì. Sì, assolutamente. Sei una persona malvagia. Quindi lo proverei molto volentieri, anche a livello di grafiche molto anime, quindi mi piace un botte. E c'è un po' una tendenza molto anime in Fumble. Gattai, infatti, è un gioco per provare l'esperienza dei robottoni anni 90, ed è un po', diciamo, la prima prova, penso, non so se, penso che sia uscito prima a giudicare dalla grafica, di Cotra, del più famoso Cotra, ed è uno dei giochi meno innovativi. Usa un pool di dadi per giocare, ma contrapposto al pool di dadi del narratore, che ha un risvolto molto interessante, su cui stavo riflettendo con il gruppo di Discord legato a Blade in the Dark. Ti permette di rendere esplicito come il narratore pensa alla scena, e quindi di dare informazioni a tutti, no? Se io devo costruire il mio pool di dadi, come tu, giocatrice, lo stai costruendo, sappiamo, no? La difficoltà, quanto è forte il nemico, e così via. In compenso, la dinamica molto carina che hanno aggiunto è l'iniziativa, che usa le linee cinetiche, come le linee cinetiche nei manga, no? Ok. Quindi ogni giocatore ha un tot di linee cinetiche, e quando le consuma passa l'iniziativa all'altro, fondamentalmente. Non è così significativo come gli altri giochi che abbiamo visto, però è interessante. Clotos, forse è il gioco meno ispirato tra quelli di Fumble, ed è anche quello che si avvicina di più a Dungeons & Dragons, infatti fate degli eroi, giocate delle classi. Le classi sono chiamate costellazioni, e di fatto avete delle abilità legate alle costellazioni, e poi tirate i dadi quando volete che qualcosa avvenga. È molto greco nell'idea del Fatos, no? Del fato, delle costellazioni, e così via. C'è però comunque una meccanica originale che è quella dei fili del destino, quindi quando volete che qualcosa avvenga in modo eroico, potete usare un filo del destino per avere successo e assicurato. Ogni filo consumato vi permette anche di livellare il vostro personaggio. Solo l'ultimo filo ha degli effetti negativi e porta alla morte del vostro personaggio. Sì, avete completato il vostro razzo. Quindi va a inserire un po' di questa poetica molto greca, quella dei fili, delle parti. Sì, esatto. E tra l'altro è presente un po' in tutte le culture, quindi è facile da capire. Però questo mi sembra un gioco che si lega molto al punto del manifesto, dove dicevano ci interroghiamo su come funzionano i giochi di ruolo. Quando ho letto questa cosa dei fili del destino mi è venuto in mente, ah, sembra un modo per dire, ma se la meccanica che ti va a avere successo automatico non avesse controindicazioni. Perché di solito è, puoi avere successo automatico e poi paghi uno scotto, no? Invece qui è addirittura livelli. Quindi è sempre positiva fino a quando non è arrivato l'ultimo filo, l'ultimo momento. Sì, ed è interessante perché comunque se tu hai i fili come risorsa sai quanti fili mancano alla morte. Sì, sai quando farlo. Che appunto per avere successo, per livellare, io di fatto mi sto avvicinando sempre di più alla mia fine. Però con un loop positivo. Abbiamo parlato un paio di volte dei loop negativi dove perdi risorse, quindi è più facile perdere risorse, quindi vai in una spirale discendente. Questa è una spirale che aumenta, diventi sempre più potente, ma comunque ti avvicini sempre di più. Mi piace tantissimo come meccanica. Sì, il resto del gioco secondo me non vale la pena. Eh, però mi piace molto questa meccanica e se alla fine il resto del gioco è simile a D&D, secondo me ci può stare, cioè vale la pena in realtà provarlo se comunque piace D&D eccetera. Si vuole fare una cosa un pochino più poetica, ma soprattutto una cosa legata alla tematica che c'è dietro questa meccanica, diventa interessante. Io la trovo molto interessante per farci sopra un po' di lavori a livello educativo e pedagogico, quindi penso che la riprenderò. Se le fate un viking fantasy, tra l'altro sta benissimo, per ognuno può avere il suo razzo con dei fili sottolineati bene e cancellare parte dell'arazzo man mano che costruite la nuova storia. Bello. Ne parli tu, ma lo presento io, trincea 1917, non mente, giocate in una trincea del 1917. È un gioco che permette di vivere la terribile vita della trincea durante la Prima Guerra Mondiale. È diviso in cinque fasi che rendono l'immedesimazione tra personaggi e giocatori molto molto vivida. Per farvi un esempio, quando arrivate al fronte, di fatto al tavolo, non potete più avere cibo o cellulari, perché così potete provare in prima persona la penuria di risorse, quindi non avete collegamenti con i vostri affetti, così come i soldati non avevano più affetti vicini, e non avete risorse, non avete cibo, insomma, bevande. È bellissimo, è proprio bellissimo. La fase di arruolamento vi permette di creare il personaggio, iniziate il gioco con un giuramento e firmando in pratica il vostro documento di arruolamento. Sì, sì, proprio c'è un giocatore, è masterless, però c'è un facilitatore o il giocatore più anziano, può gridare qualcosa tipo compagni attenti, adesso non mi ricordo la parola precisa, tutti devono stare sugli attenti con il saluto militare e recitare il giuramento. Poi firmi la tua scheda del personaggio, che è il tuo praticamente documento di arruolamento, e incomincia il gioco. È bellissimo che quello che dicevamo prima c'è proprio una fase, che è la fase di licenza, in cui puoi andare, è l'ultimo momento in cui puoi andare a prendere cibo prima di essere spedito al fronte, quindi potete alzarvi, andare in bagno, mangiare e così via, e poi da lì il gioco va avanti finché non finisce. Nel manuale è integrato una notevole introduzione di 21 pagine, che vi dà del contesto storico, è necessario per giocare, ma anche per rispettare quell'apocalisse di dolore e sofferenza che è stata la prima guerra mondiale, la grande guerra. L'artwork tra l'altro aggiunge un realismo pazzesco, integrando nel manuale i documenti dell'epoca e le testimonianze dei reduci. Tramite libri, ci sono un sacco di libri italiani sulla guerra, sulla prima guerra mondiale, mi ha colpito tantissimo questa citazione che loro riportano, che dice ho chiamato il colonnello per dirgli ci state mandando al macello e lui mi ha risposto abbiamo abbondanza di carne da darti per il macello, perché avevano tantissima gente arruolata, al che gli dissi ma lei non è un macellaio, è un colonnello, mi riattaccò in faccia e mi arrivò lo dine scritto di procedere, che è devastante. Ci sono una marea di frasi così, io mi ricordo quelle che ho letto in Un anno sull'Alto Piano di Emilio Lussu, che ti rimangono veramente in pressa fuoco quando le leggi dentro, no? Oppure come finisce niente di nuovo sul fronte occidentale. Poterlo giocare, secondo me, è devastante. Un'altra cosa interessante di Trinci a 1917 è la meccanica del noi, quindi mentre di solito spingiamo i giocatori a fare il sì e o il no ma. Esatto, in questo caso è un no e. Perciò, come ci aveva spiegato Claudio Pustorino nell'episodio in cui è stato ospite, la particolarità di questo gioco è che ti fa sentire proprio anche quell'atmosfera cupa pesante. Di fallimento. Di fallimento continuo, di frustrazione continua in cui ogni tua azione, ogni tua proposta riceve un no e delle conseguenze anche. Sì. Rende veramente il gioco devastante a livello di coinvolgimento. Tra l'altro una roba che mi è piaciuta, a me piace studiare le due guerre mondiali. Non perché sia un bel argomento, no? O per l'etica guerriera che le pervade, ma perché sono eventi complessissimi e interessanti, ma soprattutto perché sono un secolo di apocalisse che ha forgiato tutto il nostro immaginario e di cui noi ci stiamo dimenticando a un ritmo rapidissimo che a me mette sempre i brividi quando ci penso, no? E quindi poter avere un gioco da far provare così, secondo me, è una cosa fenomenale. Fenomenale. Già soltanto che la fase di gioco vera e propria è divisa in quattro stagioni più una battaglia finale e ogni stagione ha un tema e sono sempre più negativi, rappresenta proprio quell'andamento nella letteratura dove prima tutti erano entusiasti. Tutti, oh che bello, dolce et decorum est pro patria mori, no? È dolce e decoroso morire per la patria. E poi non è così. E poi si sono trovati incubi di maschera a gas, gente che era terrorizzata dal suono del fischietto e c'è nel gioco, gente che era terrorizzata dal mettersi la maschera a gas e c'è nel gioco. Malattie, dissenteria, morte, ratti, una vita terribile, devastante, e lo riporta tutto. Secondo me è veramente, veramente bello come gioco. Dovete volerlo giocare. Eh certo, sì sì sì. Perché non deve essere leggero. Knights of the Round Academy, invece è il mio gioco preferito. Per passare a cose più allegre e divertenti. Il gioco che Emilio non vede l'ora di giocare, di farmi giocare, ma che io mi ero ripromessa di non giocare mai nella mia vita perché io i robottoni non ce la faccio proprio a sopportarli. Ci sono furri, ci sono robottoni, Emilio è nella sua fase Gundam, quindi se avete visto l'ultima serie di Gundam, Witch from Mercury, Knights of the Round Academy, è quello che vi fa giocare praticamente la stessa cosa. Siete matricoli in un'accademia di guerra dove diventerete piloti di giganteschi knights, questi mobile frame Gundam in pratica, ognuno personalizzato, ognuno con dei poteri. Cosa devo dire di più? E tra l'altro questo gioco rappresenta la fumble formula più nell'attenzione a come tutto si integra, con il world building, con proprio l'ideale giapponese dove ti dicono certo, tu puoi giocare un personaggio che si chiama Arthur Pendragon, perché l'idea appunto, Knights of the Round è i cavalieri della tavola rotonda, no? Quindi l'idea è proprio tutta che questi piloti sono come novelli cavalieri in un mondo che si chiama, con paesi che si chiamano Cam e Lot, no? In un mondo che è Bre-Tyne o una roba del genere, su un pianeta proprio. Però è fatto con un'attenzione di dettagli maniacale, cioè l'intelligenza artificiale che aiuta i piloti a gestire i loro Knights, si chiama Graal, perché è tipo Giant Robot Assistant, Automatic Artificial Assistant, una roba del genere. Si adorano queste cose degli acronimi loro. Anch'io adorano queste cose e ti dicono, tu puoi giocare un personaggio che si chiama Arthur Pendragon, oppure un personaggio che si chiama Art, è un nome tipo storpiato inglese, oppure ti danno la traduzione giapponese, dove ti chiami tipo, non mi ricordo più, però del nome giapponese è la versione giapponese di Pendragon, no? Proprio per guidarti nell'immedesimazione di quel particolare genere di storie giapponesi, ed è praticamente la versione evoluta di Gattai, di cui abbiamo parlato prima. È anche quello più mainstream, proprio più con meccaniche base e così via, anche se ci tengono a far capire che è un gioco di narrazione, anche se ci tengono a sostenere il master con tanto materiale, no? Si vede che buona parte del materiale è luoghi, NPC e cose per il master da gestire. Che tipo di meccaniche usa quindi? Dadi? Dadi, sì. Pool di dadi? Sì, mi sembra di sì. È proprio quello meno innovativo da quel punto di vista, per quello che ho letto, però ha anche il manuale più lungo, quindi può essere che i dettagli mi siano sfuggiti. Passiamo invece al gioco che io non vedo l'ora di giocare. Potrei giocarlo tra l'altro portando Olga come personaggio, potrebbe essere uno spin-off di storie di vapore. Tutti ci dicono che fa morire da ridere. E ci credo. Ed è Green Hawks, che si basa sulle carte da briscola, diciamo subito questo sistema di gioco geniale per ruolare un gruppo di anziani in una casa di riposo. Io adoro, da quando l'ho sentito la prima volta, non vedo l'ora veramente di giocarlo. Il sistema di gioco si chiama Arteriosclerosystem. Sì, tra l'altro è Arteriosclerosis, però per far capire il gioco di parole l'abbiamo specificato. All'inizio della sessione il master pesca una carta di cui il seme diventerà la briscola e quindi per avere successo in una prova bisogna pescare una carta dello stesso seme della briscola. Ma viene aggiunta complessità considerando anche il valore della carta. Ad esempio le figure danno successi migliori, fallimenti meno drastici. Sì, se estrai un re e non è di briscola, è meno peggio che se estrai un due e non è di briscola. Utilizza meccaniche come il fastidio e la scenata o la pennichella per rappresentare la dinamica vita degli anziani e il manuale sembra proprio, cioè, impaginato come il pamphlet dell'omonima casa di riposo, appunto Green Hawks, ma non è perfettamente immedesimato come in Being Human e non si riferisce a voi come anziani. In tutto il manuale, nella parte iniziale sì. L'introduzione sì, però, cioè, parla di voi che sarete gli ospiti della casa e così via. E ogni tanto all'interno del resto, però non sempre. Io lo adoro, penso che per quanto riguarda la Fumble Formula potrebbe essere uno dei più completi, perché nel manuale appunto utilizza un po' questo giochino, in realtà anche soltanto nell'impaginazione, nel font, nelle grafiche, tutto. E poi è geniale. Non ho capito perché abbia una strana passione in manuale per alieni e reptiliani. Perché sono le storie che si inventano i vecchietti. Ah, ok, tu dici che è una mega esagerazione dei vecchi. Sì, l'idea è che tu pian piano inizi a costruire una serie di... cioè, diventa praticamente una gara a chi la spara più grossa e quindi poi si va verso... Ah, ok, ho capito. Sì, c'è come dinamica, dove compensi. Sì, sì, sì. E mi fa morire che tipo per ripescare, nel caso di un fallimento, puoi lamentarti. Quindi ti lamenti dell'artrite, peschi un'altra carta e speri di riuscire a disarmare il serial killer che sta andando a ucciderti. Io non so perché non l'abbiamo ancora giocato. Ma perché io pensavo che fosse puntato ad esperire gli anziani o una roba all'aldo Giovanni e Giacomo che sono in casa di riposo, che c'è un film, no? Sì. Invece non c'entra niente, cioè puoi fare spy story, tutti gli esempi che fanno è sei un ex serial killer, l'agente segreto che ora è, capito, è più figo. Cioè, praticamente giochi il tipico manga, dove i personaggi sono completamente fuori di testa, però sono anziani, ci sta. Di Prism invece ne abbiamo già parlato con Claudio Pustorino, quindi andate ad ascoltare l'episodio apposito, mentre già da adesso ci spiega Not The End, che è un po' quello più generalista di Fumble, quello un po' più monolitico. Sì, anche di Not The End, comunque abbiamo già fatto un intero episodio, un'intera recensione. Ah, già è vero, me l'avevo dimenticato. Andate ad ascoltare anche quello. Andate ad ascoltare anche quello, però vabbè, comunque questo si basa sui token, sull'utilizzo delle parole che definiscono il personaggio. Mi piace tantissimo, lo sto utilizzando molto nelle varie esperienze di GDR e pedagogia che sto facendo, perché è molto significativo per un giocatore riflettere sul proprio personaggio, sull'identità del proprio personaggio, definire qual è l'archetipo che sta al centro del personaggio, quali sono le cose che lo caratterizzano e poi capire anche nel momento in cui gioca una scena che cosa sta mettendo in gioco delle cose che lo definiscono. E in base a quante cose mette in gioco, mette più segnalini bianchi, token, all'interno del sacchetto. Invece il narratore definisce quanti segnalini neri ci sono in base alla difficoltà. Per avere successo basta un solo segnalino bianco, quindi anche qui abbiamo una grande possibilità di successo. Inoltre in Not The End non si muore, diciamo, ma si esce di scena, a meno che non sia il giocatore stesso a volerlo. In Not The End c'è una meccanica per rientrare in scena? Per tutti gli altri giochi ce l'hanno. Sì, cioè nel senso quando cambia la scena... Eh, invece, la maggior parte degli altri giochi, anche Knights of the Round, Accademia o quello sulla Germania, hai sempre una meccanica dove puoi prenderti danni o prendere stress o prendere fastidio se sei un anziano di Greenhawks e rientrare subito in scena. Ok. È un gioco molto pro giocatori, ma proprio nel senso che vuole lasciarti giocare. Allora, al momento non mi ricordo una cosa del genere, però può darsi che ci sia anche in Not The End. Io ricordo che tutte le volte che l'ho giocato, quando vado a terra e esco di scena, ci si inventa un motivo per cui quel personaggio è fuori gioco in quella scena, ma poi tanto rientra la scena... Tipica scena degli anime che sono in ospedale, tutti completamente bendati e proprio in pieno che non guariscono. Sì, e rientra in scena, quindi nella successiva. Ma adesso è il momento di un riposo breve offerto dal nostro sponsor. Proviamo a tirare fuori, improvvisando completamente questa parte senza script, un po'... Qual è la Fumble Formula? Esatto, cioè abbiamo deciso di chiamarla Fumble Formula perché ci sembra che comunque sia un gruppo di autori che comunque ha una linea, no? Molto decisa. Lo abbiamo visto già appunto dal manifesto, che è molto interessante. E c'è sicuramente un'evoluzione nei vari giochi che hanno portato, che va sempre di più verso la sperimentazione, verso creare dei manuali coinvolgenti che giochino già nel momento della lettura del manuale con i futuri giocatori. Quindi c'è sicuramente un'evoluzione. Che pieghino le aspettative del gioco di ruolo. Sì. Però dall'altro lato c'è anche sicuramente una certa coerenza, una certa coesione in tutti i giochi. E secondo me la base di tutto è che in ogni gioco traspare quanto sono appassionati loro di quella cosa lì. Sì. Cioè si capisce che se qualcuno ha scritto Trincea 1917 perché è probabilmente un appassionato, uno di loro magari, solo uno ne basta, ma è un super appassionato di quel periodo storico lì e ci teneva particolarmente a far sentire quella cosa lì. Si capisce che qualcuno è super appassionato di robottoni e quindi ha portato gattai. Sì sì, magari sono sempre anche le stesse persone. Però hai proprio l'idea che, ok, c'è qualcuno che veramente ha studiato tanto e lo abbiamo sentito anche nell'intervista con Claudio Pustorino, quanto studio c'è dietro a un gioco. Cioè Prism doveva essere il gioco sulla distopia. E ti dà a disposizione i tipi di distopia, un po' come Blazing the Darks per i tipi di gang. E c'è dietro tanto studio, tanta ricerca, ma nasce già quello comunque dà una passione per quel genere, no? Quindi niente, io continuo ad essere molto ammirata e affascinata. Secondo me uno dei trucchi che usano è usare poca astrazione. Giochi come Dungeons & Dragons si allontanano molto dal materiale di cui trattano. Non c'è niente di eroico nel lanciare un dado, ok? Perché l'obiettivo è modellizzare tutto. Sì. Quindi puoi fare di tutto, puoi andare su astronavi, puoi infilarti sott'acqua, puoi fare quello che vuoi. Mentre invece Fumble cerca di simulare soltanto le parti dell'esperienza che gli serve per il tema. Sì. E' molto bello dal punto di vista del design come scelta, no? Non fanno giochi monolitici. Vero, esatto. E infatti, cioè pensiamo appunto a Green Ox per dire, il dettaglio delle carte di briscola può sembrare una cavolata ma è fondamentale. Cioè già soltanto quella scelta ti fa sentire molto più integrato nel gioco come giocatore rispetto a usare dei token o delle carte normali o dei dadi. E però appunto è soltanto un aspetto ovviamente della vita di un anziano, no? Esatto. E l'astrazione non è solo nella meccanica, no? Ma è anche il fatto che giochi solo l'anziano nella casa di riposo. Non è un gioco che ti permette di giocare un anziano in qualsiasi contesto. Cioè puoi essere un settantenne che ancora lavora ma non ci giochi in Green Ox. Oppure il fatto che si sono resi conto che è importante la casa di riposo e le avventure che loro possono esagerare e inventarsi, come facevi notare. E quindi ti dicono nella prima pagina che Green Ox è tutto. È la cittadina, è la casa di riposo, è il supermercato, è la scuola, è l'istituto recreativo. Cioè tutto si chiama Green Ox. Perché è astraida quello, no? Non gli interessa. Modellizzano soltanto quella piccola parte, capito? Tra l'altro ho appena usato astrazione in un altro modo ancora. Però l'idea è che appunto prendono soltanto quella parte lì e tutto il resto non gli interessa, no? Non tentano di avere un sistema che... Che compra tutto. Sì, e infatti poi se guardi... Cioè trincea, 1917 è trincea. È proprio la vita in trincea. Esatto, non ti interessa fare, non lo so, il politico che gestisce la guerra mondiale. German Democratic Republic, come dicevi, è soltanto una missione da spie in quel contesto lì della guerra fredda. Esatto. Non è in generale giochi durante la guerra fredda e puoi essere uno che vuole scavalcare il muro di Berlino per andare dall'altra parte. Esatto. E nei giochi che abbiamo letto c'è sempre un punto dove ti dicono, soprattutto più sono meccanici, tipo 1917 a tanto peso delle meccaniche, ti dicono però quello è per farti capire come va la cosa e per aiutarti. Il dialogo è il signore assoluto del tavolo. Quindi tutto il resto che noi non consideriamo perché stiamo modellizzando quell'esperienza lì, potete risolverlo semplicemente raccontando tra di voi, che è una cosa che era immersa anche con Claudio quando ne abbiamo parlato. Sì, c'è uno dei loro giochi che però va contro questa nostra teoria che è Not The End. Not The End invece è generalista ed è l'astrazione assoluta. Infatti a me non piace. L'idea è io ti do il sistema. Però secondo me questo è perché tornando al loro manifesto rispondono a due differenti necessità che loro esprimono. Di stoppo? Provo di indovinare quali stai dicendo? Cioè l'idea di cambiare anche come viene il sistema economico dei giochi di ruolo? No, non era quello che stavo dicendo. Aspetta che prendo il manifesto così te li leggo. Perché io lo vedevo come, visto che hai i token, visto che è un sistema che non puoi avere espansioni, non puoi avere tante cose, è una piattaforma aperta e veramente distribuibile a tutti, comprensibile da tutti, molto più facile che un Dungeons & Dragons. Allora, secondo me Not The End risponde al punto 3 del loro manifesto, che è vogliamo pubblicare sistemi originali. Quindi dice l'idea di prendere un gioco con una licenza che permetta di modificarlo, cambiare alcune regole e distribuirlo è spesso la strada più facile, ma non è la nostra strada, non è nemmeno una strada sbagliata. Spesso ci ispireremo a meccaniche che abbiamo visto in altri giochi, vogliamo comunque essere il più originale e creativi possibile, provando a scrivere dei giochi che possano vivere in maniera autonoma. E Not The End risponde solo a quel punto lì, mentre tutti gli altri rispondono anche al punto 4, che è vogliamo inventare nuovi mondi, ma non vogliamo dirvi come usarli. Non lo so, secondo me quello è quello che rispettano di meno. In 1917 ci sono tante opzioni, però il mondo è quello, l'hanno creato bene e lo usi. Tanto infatti è fatto da meccaniche casuali, ti danno cose casuali in mezzo che estrai con le carte. Ok, però lì non è che crei un nuovo mondo. Sì, sì, sì. Cioè, giochi un mondo che è esistito. Però il punto dei sistemi originali sicuramente fa parte della fumble formula. Prendono sempre cose che non ti aspetteresti di poterci fare un gioco di ruolo. E ci sono altri gruppi che fanno ancora meglio, tipo quello delle spose di Barba Blu. Mi sento se lo ricordi come gioco, dove ruoli una sposa di Barba Blu e tutti i giocatori controllano un'unica sposa. Che dici, non mi aspetterei di avere un gioco del genere, però anche loro vanno molto in quella direzione. Sempre perché prendiamo una parte specifica del mondo che non ti aspetti di poter giocare. Eccezione fatta per Kotla. Kotla è proprio... Se ti piace il genere è puro mainstream. E poi sicuramente fa sempre parte del loro discorso è stare attenti a come si svolgerà veramente il gioco al tavolo. Cioè c'è tanta attenzione a come effettivamente verrà giocato, a differenza per esempio di Dungeons & Dragons che si porta dietro 20.000 meccaniche che non usa nessuno, come il peso dell'equipaggiamento e così via. Sì esatto, qui almeno tutti quelli che abbiamo letto, login non l'abbiamo ancora letto, quindi vedremo poi. Però tutti i giochi di fatto sono... cioè le meccaniche sono riassumibili brevemente e la scheda di solito è una scheda comunque molto semplice che aiuta molto il giocatore a trovare le informazioni che gli servono per poter giocare. Molto grafica. Molto grafica. Sì, cura molto l'aspetto del gioco al tavolo. E comunque so che fanno una marea di playtest per essere di fatto nati come una casa editrice indipendente. Adesso ormai hanno, tra i vari premi, i successi dei vari giochi, di fatto sono praticamente alla pari di una casa editrice di giochi di ruolo, almeno in Italia. Sì, boh, non lo so. Non so come si considerano e come sono strutturati, però di sicuro nei prodotti che creano non si è da differenza tra quelli prima e quelli dopo, quanto sono sviluppati. Sono giochi dove il contenuto è la forma e viceversa, anche quando magari come la carta, la tessera di domino per il German Democratic Republic. Cioè c'è un'attenzione, no? Le carte di domino hanno due valori e tu puoi essere un doppio giochista. Cioè c'è sempre qualcosina in quello che fai effettivamente al tavolo che riporta il tema, riporta il contenuto. Quindi anche quello è molto interessante. E poi sono giochi low prep. Esatto, che è la cosa che adoro. In generale possono essere preparati in poco tempo sia da chi farà da narratore, da game master, che dai giocatori. La maggior parte infatti ti chiedono di iniziare, cioè di preparare il personaggio. Durante il gioco. Sì, appena prima di giocare praticamente o addirittura di approfondirlo durante il gioco. Anche se alcuni hanno un master e quindi qualcuno tocca fare un po' più di preparazione rispetto a quelli come Trincea che è masterless. Quindi tutti possono giocare fin da subito. Però come dicevo prima, Cotra ti dà tanto aiuto nel farlo e tutti gli altri sono abbastanza leggeri e con abbastanza parità nel gioco da non dover battere la testa per due ore su come preparare la sessione. Puoi dire vabbè andiamo al tavolo e vediamo cosa succede. Sto attento a quello che mi dicono gli altri e il gioco funziona. Proprio perché ha il dialogo al centro. In generale sono roleplay centrici e poi c'è sempre questa attenzione verso le parole e le storie che vengono raccontate. Forse da un lato in maniera più filosofica, se pensiamo a Prism, a Not The End o a Trincea 1917. Quindi Prism e Not The End dove l'importanza sono proprio le parole che ti definiscono. Trincea 1917 dove il dialogo è al centro con No e, la meccanica che dicevamo prima. E invece in modo magari più scherzoso, quindi come il dialogo e raccontare cose può diventare, può prendere aspetti assurdi con Green Hawks, no? Però c'è proprio questa tematica del dialogo, del racconto che plasma in qualche modo la realtà. Sì, mi sono appena ricordato, infatti mi sono un attimo spaisato mentre parlavi, che mi interessa dirlo, quindi lo ripeto. Sono low prep anche perché sono scritti molto bene, non soltanto perché sono incentrati sul dialogo. Cioè questa cosa, dopo aver letto Dragon Bane, non è più così scontata nel mio review, perché i giochi di ruolo sono stranamente ben confezionati. Quelli che escono e vengono pubblicati e tutto, quelli di Fumble hanno un livello superiore. Assolutamente d'accordo. Ho dovuto rileggere due volte una regola per capirla. Gli altri sono spiegati alla perfezione e hanno una cosa molto intelligente che ti dicono, guarda, devo nominarti questa meccanica qui perché mi serve dirtelo, non ti preoccupare, lo vediamo dopo. Questa è la pagina, se vuoi già leggerlo, che è buona pratica in un gioco di ruolo. Sì, in un manuale è fondamentale avere le indicazioni che ti dicono se vuoi che ti spieghi questa cosa alla propria pagina X. Sì, almeno so che non mi sono perso un pezzo. E l'ultima roba è sicuramente l'attenzione alla community. Sì, l'introduzione dei vari giochi in generale avverte tutti di rispettare gli altri e non è soltanto qualcosa che scrivono, tanto per si sente che è una cosa in cui credono. E si sente non perché ce lo immaginiamo noi o perché abbiamo conosciuto Claudio, ma perché è integrato nelle meccaniche, un rispetto dello spotlight dell'altro, un rispetto dal punto da dire in un gioco posso permettermi di dire no e no, perché tra l'altro l'altro può accettarlo meno. Quindi c'è sempre un meccanismo di fallback per sentirsi sicuri nel gestire la tematica del discorso. L'altra attenzione alla community la vediamo nel sito stesso, dove appunto offre in maniera molto chiara qual è il punto di ogni gioco, quindi ti fa un riassunto di che tipo di gioco puoi trovare in quel manuale e ti dice chiaramente se sei questo tipo di persona non comprare questo gioco. Ad esempio con login ti dice se non hai voglia di leggerti un intero manuale per poter giocare ci sono altri giochi che abbiamo fatto che magari sono più adatti a te non comprare questo. E non è una cosa così scontata che qualcuno sia così trasparente rispetto al marketing. Se vogliamo tirare una frecciata a Mamma Wizard, che tanto ne prende peggio che San Sebastiano, tutti i manuali vengono spinti allo stesso modo, sia quando sono manuali tipo quello dei giganti, dove dici quanto mi interessa sapere come funzionano i giganti, però comunque viene venduto come se fosse la nuova edizione aggiornata di Dungeons & Dragons, fondamentale per il gioco. Ecco, invece qui appunto sono molto chiari sul tipo di giocatore che secondo loro è il giocatore per cui hanno scritto quel particolare gioco di ruolo. Quindi ad esempio se ami gli isekai, allora il gioco per te è login, però devi essere anche pronto a leggerti tutto il manuale. Se ami i robottoni c'è Gattai, ma se vuoi un gioco... Se vuoi avere tutto un sistema proprio... Allora c'è Cotra e così via, insomma. Perché non ti piacciono i robottoni? Ma sì, tanto lo sai che alla fine mi convincerai e ci giocheremo. Sì, sì. E con questo ci colleghiamo alla nostra domanda finale, che ci siamo posti a cui non so se ci siamo dati una risposta. Ce la siamo data proprio. Che è, qual è il target di fumble però? Sì, sicuramente gente che ha già giocato un fracco di tempo Dungeons & Dragons e come noi vuole provare nuovi giochi. Però secondo me è anche gente che non ha mai giocato a niente e che viene trascinata dentro dagli altri. Secondo me no. Cioè secondo te uno che non ha mai giocato di ruolo non si troverebbe a giocare... Magari a Not The End o a Cotra. A tutti quelli più fumble formula no. Greenhawks? No. Come proponi a una persona che è completamente al di fuori dei giochi di ruolo dire Ah ci divertiremo un sacco oggi pomeriggio, faremo gli anziani. Ok, però... Ovvio che sei un evangelista che ti convince. Però se ti dico guarda ti piace Gundam, sì, vieni che giochiamo a Gundam. Ok. Se non ti piace essere un anziano. Però adesso... Vuoi giocare un dio che ha perso i poteri? Come li presenti in un pitch veloce. Perché ad esempio Greenhawks a me hanno detto che come dinamiche ricorda molto a un certo punto come vanno le partite di Sì Oscuro Signore, ok? E quello è un gioco da tavolo che però in realtà è un gioco di ruolo perché di fatto... Eh sì. Ok. E quello in realtà ci gioca chiunque, non è che ci gioca solo i giocatori di ruolo. Però capito che è molto più generale. Se sei nerd, uno scuro signore ce l'hai presente? Sauron? Non lo so, vabbè. Dovrò sperimentare e provare a proporre giochi a un po' di gente che non ha mai giocato a nulla per vedere se... No, no, ho ragione io. Tu sperimenta quello che vuoi, ma... Se pensiamo al target a cui pensano loro probabilmente sì, cioè pensano a giocatori che sono già esperti o comunque che hanno già sperimentato D&D e altri giochi di ruolo più famosi che vogliono però provare anche altro. Se volete sostenerci condividete il podcast, se volete continuare la discussione fate un salto su Discord dove vi aspetto a braccia aperte, ma soprattutto passate ad ascoltare i nostri podcast di Attual Play, Storie di Vapore e Due Draghi Sidecast, dove proveremo di sicuro anche giochi di fanball prima o poi. Per noi è il momento di fare un riposo lungo fino al prossimo lunedì perché il lunedì non è mai stato così avventuroso.